Questo programma è realizzato in collaborazione con Sostenibilità è la parola chiave del futuro e Redel Green Energy si occupa da più di 40 anni di efficientamento energetico ed energie rinnovabili. Il futuro è green. Scegli Redel. Ti sei diplomato da poco o vuoi completare i tuoi studi universitari? Studia da casa senza rinunciare a niente e spendi di meno. Con Possidonea raggiungerai il tuo obiettivo sfruttando al meglio il tuo tempo. La vita è una grande avventura. Semar Elettricità. Dove c'è luce. Stai arrivando? Arrivo. Amaro del Capo Ghiacciato Accende la Festa Buonasera, buonasera a tutti. Ci ritroviamo per questo ultimo appuntamento targato 2023 che coincide anche al primo giro di Boa per quello che concerna il campionato regionale calabrese assieme al campionato di promozione. Mentre il giro di Boa per la quarta serie ci sarà questo mercoledì. Ma saremo anche, parleremo e commenteremo anche la finale di Coppa Italia che sarà giocata alla Macri di Locri all'antivigilia della vigilia del Santo Natale. Quindi questo venerdì pomeriggio alle ore 14.30 a Locri. E noi questa sera questa finale non solo la vogliamo giocare in anticipo qui in studio con due allenatori che secondo il mio punto di vista e non solo il mio punto di vista hanno fatto e continuano a fare la storia del calcio in Calabria. Di solito li chiamo allenatori, gli allenatori sono quelli che allenano i muscoli dei singoli atleti. Io li chiamo docenti di calcio perché è da oltre 40 anni che masticano pallone prima come calciatori e poi come maestri. Buonasera a Rosario Salerno. Buonasera a te Nino e grazie dell'invito. Ovviamente Rosario non ha vinto nessuna Coppa Italia, non ci è arrivato mai in finale però ha vinto tanti campionati. Sì, sono arrivato alla finale con il Soverato, poi è successo il patatracche e quindi sono andato via e non ho avuto la gioia di fare la finale. Lo scorso anno ha staccato il quinto tagliando, ha disputato quattro finali della Coppa Italia di Lettanti, lo possiamo definire il veterano con la V maiuscola del calcio dilettantistico. Lo hanno chiamato parecchi, probabilmente a tutti ha detto di no perché Pippo la faccia e si affianca solamente a delle società che hanno degli obiettivi importanti ma soprattutto a delle società che vorrebbero aprire un ciclo. Pippo ti ho presentato manco se fossi il più grande allenatore del mondo. Ti ringrazio ma non mi sono mai sentito il più grande allenatore. Sono stato uno di media classifica, una persona che ha sempre lottato con le unghie per guadagnarsi quello che nel campo poi si è meritato. Tante amicizie, tanti rispetti, tante belle conoscenze. Parliamo di calcio calabrese. Lo stato del calcio calabrese, Rosario, tu da qualche anno a questa parte hai abbandonato la panchina del calcio dilettantistico per andare ad occupare una panchina importante. Lo scorso anno ha vinto il campionato Under 17 con il Catanzaro, quindi ti diverti più con i giovani eppure la panchina vera e propria ti manca. Tu hai parlato prima di progetto, no? Quindi i progetti in questi campionati dilettanti devono essere fatti bene e rispettati. Poi tu prepari un progetto e non viene rispettato e allora è giusto prendere una strada dove hai la possibilità di fare professionismo a tutti gli effetti. Io ho avuto la fortuna che Carmelo More mi ha chiamato quando sono andato dalla Vigor e hanno cambiato tutta la situazione. Quindi obiettivamente mi trovo bene, però non ti nascondo che mi mancano allenare i grandi. Quindi è bello allenare i ragazzi, però poi si arriva a un punto dove decidi di fare o fare allenatore in un certo modo oppure fare allenatore e dare istruzione, dare delle cose importanti ai ragazzi per crescere in una certa maniera. Il calcio che la parola ha bisogno di Pippo. Lo scorso anno ha tagliato, scusi Bissuccio di parole, il quinto tagliando. Adesso ti stai riposando. Aspettiamo il sesto. No, io dopo 30 anni mi ritrovo quest'anno a non allenare, un po' per scelta mia, un po' per altri fattori che magari non saranno stato chiamati per tempo. Ti dico la verità, io non sto frequentando nessun campo perché mi dà fastidio andare a frequentare i campi e tantomeno per allenare vado ad offrirmi, vado a chiamare l'amico del dirigente. Perché bisogna avere, oltre che dell'antrologia professionale, anche dignità. Io queste cose non le ho mai fatte. Sono stato chiamato, però per vari motivi non ci siamo incontrati. Non è l'ultima l'allontananza con certe piazze perché io lavoro e non posso sottopormi a fare 200, 150, 160 km al giorno. Allora, questo è il primo giro di domande. Adesso vi faccio vedere tutti i gol di questa giornata, ma soprattutto mi vorrei soffermare in una partita che la definisco vergognosa per quello che riguarda il risultato finale. Vi anticipo la domanda. Secondo voi è più corretto far circolare palla per non segnare più gollo? Oppure è da fare un applauso a quei ragazzini che ci stanno mettendo la faccia pur di onorare una gloriosa maglia che è quella della gioia? Ovviamente tra per i gioia si finita 8 a 0. Vediamoci tutti i gol di questa giornata. Come al solito il pezzo è firmato dal collega Raffaele Musumesci. Con una giornata d'anticipo il Trapani si laurea campione d'inverno. Troppo facile la partita della capolista contro la Baby Gioiese dove il più vecchio in campo ha 22 anni. Goleada doveva essere e goleada è stata come da pronostico senza sorprese. Dopo l'Euro goal di Sbrissa, uno che ad Acireale rimpiangono ancora, arrivano la rovesciata di Mascari per il 2 a 0, la spizzata di testa di Palermo e la doppietta personale di Marigoso, prima su punizione, poi con un tocco felpato in mezzo all'area di rigore per il 5 a 0 che chiude il primo tempo. Nella ripresa rotondano ancora Bova con un preciso diagonale, Sbrissa che sigla la sua doppietta personale con un tapin vincente sull'errore del portiere calabrese e Samache con un colpo di testa che fisse il punteggio sull'8 a 0 finale. Tiene il passo il Siracusa che espugna 2 a 0 la tana dell'Akragas, il solito Alma si inventa la gran giocata che porta in vantaggio gli R2-6. Ci riprova l'attaccante azzurro ma la traversa gli dice di no, il raddoppio della vice capolista arriva però nella ripresa, a firma ancora di Alma, facile conclusione a porta vuota su assist di Sena. Rallenta invece la Vibonese che nell'anticipo di sabato si fa fermare in casa dal Portici. Dopo sette minuti Staropoli la sblocca per i calabresi ma allo stesso minuto della ripresa, il settimo, Maione trova il pareggio per i campani. Dietro le prime tre vince solo la LFA Reggio Calabria che si impone 2 a 0 in casa della San Cataldese. Dopo un buon primo tempo dei siciliani che colpiscono anche una traversa, gli Amaranto escono fuori nella ripresa e sbloccano la partita con la estirata di Bolzicco. Poi nel finale Rossetti risolve di potenza una mischia davanti alla porta verde Amaranto. La squadra Regina aggancia così al quarto posto il Real Casalnuovo fermato sull'1-1 in casa del San Luca. Succede tutto nei primi dieci minuti con Vivacqua che la sblocca subito e Giampaolo che trova il pari nove minuti dopo. Risale verso i playoff il Sant'Agata che sbanca Ragusa grazie al colpo di testa di Nagy nella ripresa. In coda politica dei piccoli passi per il Locri che rimonta due gol alla Cireale. Siciliani avanti grazie al colpo di testa di Cicirello. Dopo pochi minuti nella ripresa ancora Cicirello scappa in velocità alla difesa calabrese e piazza il 2-0. Ma a questo punto si accende il neoacquisto Leveque che prima serve a costa la palla del 2-1. Poi al novantesimo trova il tiro a giro vincente per il gol del pareggio. Muove la classifica anche il Castro Villari che fa 0-0 nel match casalingo contro i Lellicata. I rossoneri lasciano così il penultimo posto in classifica. Anche se restano l'unica squadra del Girona nel aver ancora vinto una partita. Rosario, il risultato che si è messo subito in evidenza, l'8-0 del Trapani, tu da allenatore che giustificazioni dai da uno o dall'altra parte? Se tu dall'altra parte vedi una squadra giovanissima, forse alle prime esperienze con il calcio che conta, perché la Serie D è un calcio che conta, tu hai un giocatore che dice fate il circolo a palla oppure inferite fino a quanto non potete? Beh, guarda Nino, su questo discorso c'è da parlare perché se tu vedi anche in Serie A, alcune volte capitano quelle partite 5-6-0, è capitato poche volte ma è successo anche al Barcellona, sono arrivati a 7-0 mi pare che non è partita. In questo caso diciamo che la Giese è in grossa difficoltà, una volta che tu sei arrivato a fare il quarto gol, allora in quel caso devi iniziare a essere bravo a far girare le palla, però poi subentrano i ragazzini, hanno voglia di fare i gol, non capita tutte le domeniche e quindi poi in quel caso l'anatore cerca di poter fare il meglio secondo me. E quindi non è stata una cosa bella, però se entra un ragazzo che fa il ragazzo? Torna dietro Nino, non gli capita nella stessa giornata. È una mentalità che anche da non dovrebbe cambiare, intanto ho visto che stiamo parlando di Trapani-Gioiese, Pasquale vai proprio sul filmato di Trapani-Gioiese, Pippo. Io volevo dire che non è facile gestire queste partite, sia per gli allenatori della squadra che ha il gioco facile, in questo caso l'allenatore del Trapani, ma anche per la gente che paga il biglietto per andare a vedere la partita. Io ho la mia idea, la mia idea è che io ogni volta che mi sono trovato in queste situazioni, quando si è arrivato a quattro e abbiamo messo il risultato da sicuro, ho chiamato sempre guai a chi passava a centrocampo, forse non è corretto, però è inutile andare a finire su 18 ragazzini che con grandi sacrifici stanno ronando il calcio. Io non so se sono partiti domenica a fine, però la Gioiese... Probabilmente, io con questi tipi di fare goleate, anche perché poi gli attaccanti hanno fatto qui tre golli, chi quattro, chi due, e alla fine che se ne fanno di questi golli fatti in maniera così facile. Io ricordo un episodio, forse tu non so se tu lo ricordi che era ancora un ragazzino Nino, ma penso che Rosario ricorda, 33-34 anni fa giocava in eccellenza il Crotone di Fresenda. 32-0. Ha vinto 32-0 a Palmi, alla fine, quando sono andato a giocare a Palmi, hanno perso 1-0. Ora io dico, ma quale vergogna ci deve essere per farsi fermare e non arrivare a 32-0? Perché ero stato allora, mi ricordo che il Presidente forse, della Palmese era uno di gioia, forse era il Signor Macri, non so, e poi alla fine, al ritorno, hanno perso 1-0, che si sono calate le braghe, no? Allora voglio dire, non è corretto questo discorso. Io dico che bisogna avere anche, uno deve vincere. Io dico sempre, uno non deve sapere perdere, ma deve sapere vincere, perché stravincere in quel modo non ha senso, perché tu non hai fatto... Oggi tu hai, giustamente, da cronista attento, ci fai questa domanda, perché è una bruttura vedere queste cose. Però purtroppo, sai, torniamo sempre all'inizio, al discorso che facevamo inizialmente. Lo sa, se non c'è programmazione, questi sono i risultati. Il problema, mister, se l'allenatore lascia quegli, gli undici che erano in campo, non deve fare entrare nessuno, perché una volta che ci sono gli undici, hanno la possibilità di poter gestire bene la partita. Se tu metti un ragazzo, il ragazzo ha voglia di andare a fare gol, quindi in quel momento poi l'allenatore deve essere bravo a non mettere ragazzi che hanno quello spirito di andare a fare gol a tutti i costi, però c'è sempre il pro e il contro di questa situazione. Io sono da parere che è giusto che ci sia la libertà, non come è successo 30 anni fa con la Palmese, che quella è stata una cosa poco piaceva. Escutiamo queste immagini per dire cosa? Che la Fiammella si sta spegnendo in quel di Gioia Tauro e io ho la sensazione che la Fiammella si spegnerà in maniera definitiva. Cioè Gioia Tauro rischia di non avere più la squadra numero uno a Gioia, meno male che adesso c'è il supporto anche della Samicella. Giustamente parlava a prima Pippo di mancanze di programmazione. Rispeglie che lo scorso anno Gioia Tauro ha vinto tutto. Coppa, il campionato e la Supercoppa. Non vorrei e non deve essere assolutamente un alibi il fatto che manca il polivalente e purtroppo io lo dico a due personaggi che gravi nel mondo del calcio. In questo caso sarebbe stato necessario che intervenisse la politica e la politese infatti, infatti, proprio. Cioè quando il sindaco Alessio in una recente conferenza stampa dice adesso manderò l'Iban della società, interesserò tu, interesserò io nelle varie attività commerciali della piana di Gioia Tauro. Nessuno risponde. Mi pare che da questo punto di vista non c'è un collante tra città e politica. Ed ecco la rovina. Sì, ma io non so come sono stati veramente i fatti a livello politico. Chiaramente per una società di eccellenza che già a marzo aveva vinto il campionato di eccellenza l'anno scorso c'era stato tutto il tempo per poter porre rimedio a quella situazione dello stadio di Gioia Tauro. Dico che Gioia Tauro è una piazza importante, una delle più importanti della Calabria. quando noi eravamo ragazzini tutti leggevamo e andavamo a vedere la Gioiese di Scoglio. Ha fatto il professionismo la Gioiese di Scoglio. Ecco appunto, quindi io non sono convinto nemmeno che è finita perché Gioia Tauro è una piazza così grande, così importante, così di alta attenzione. Vedrai, troveranno il modo per ripartire da qualche prima categoria, da qualche promozione. Però io dico per andare direttamente subito, nel giro di un paio di anni la rivedremo in eccellenza. anche se la San Micelle sta facendo bene e mi dicono che sia una società organizzata bene che abbia delle buone potenzialità organizzative ed economiche. Però il problema è uno. Io dico sempre, e non so se voi siete d'accordo, piuttosto che andare in Serie D e rischiare di tornare dietro con le ossa rotte, con le polvere tutte completamente inzuppate e bagnate e con un sacco di debito sulle spalle perché non dimentichiamo che i contratti che si fanno in Serie D vanno onorati. Sì, perché abbiamo delle esperienze, anche un paio d'anni fa, la Valle Gregane e i Cammergo hanno pensato a un certo punto di ritirarsi dal campionato e fino a un paio d'anni c'era gente tra i dirigenti che pagava le varie vertenze economiche. Ti blocco perché in settimana è arrivata proprio da parte della LND la vertenza che l'attuale dirigenza della Giovese dovrà pagare a tutto lo staff tecnico. non c'era quattrone la sera, quindi si parla di qualche decina di miliardi di euro in una situazione molto difficile dal punto di vista economico, quindi per questo ho detto prima la fiammella si sta spegnendo in maniera molto definitiva. Tornando al discorso di Pippo, caro Rosario, è anche vero che qui tu vai in Serie D convinto di fare chissà che cosa, io preferirei vincere un campionato tranquillo di eccellenza, non spendere centinaia di migliaia di euro e poi ritrovarti in eccellenza a far cosa, in Serie D a far cosa, perché la Serie D sulla carta è il campionato nazionale, però sul campo è un campionato che si avvicina al professionismo. Eh sì, allora negli ultimi anni sembra che ci sia stato noi come Palmessi che vinci io quel campionato, l'anno dopo si è fatta fatica a fare l'iscrizione, si è fatta fatica a fare squadra, abbiamo giocato su quel campo di rugby che era una cosa vergognosa che tu hai visto. Ma guarda la Vellese e la Valle Grigana che sono tutti scomparse. Stessa cosa l'anno scorso il campionato vinse San Biase, poi hanno fatto la fusione, perché se tu vinci il campionato deve avere un progetto, il discorso che ho fatto prima, che se non c'è un progetto in un campionato dilettante è inutile che tu punti a vincere, poi parlando dopo a fare brutte figure come sta succedendo adesso alla Gioiese e mi dispiace perché, come ha detto il mister, la Gioiese è stata sempre una società forte a livello di immagine, però in questo caso oggi nel calcio Nino non si può improvvisare, si deve programmare. Se si programma i risultati vengono. Assolutamente d'accordo. Andiamo alla gara che abbiamo filmato l'anticipo di sabato, quello di Vibo, tra la Vibonese e il Portici finita 1-1. Un grande insegnamento per la Vibonese che è scesa in campo spavalta, convinta di segnare una valanga di gol a Portici e alla fine la formazione di Boucher ha rischiato anche di trovarsi con 0 punti. Quindi 1-1 che deve fare riflettere soprattutto nel discorso mentale. Pippo, dall'altro della tua esperienza, come si preparano determinate partite quando tutto sulla carta si è forte, dall'altra parte incontra una squadra molto debole, convinto di fare che c'è quanti gol e alla fine riesci di perdere. Sì, io penso che anche Rosario sia d'accordo con me. Le partite di cartello non hai difficoltà a prepararli perché quelle già si preparano da sole. Il giocatore è motivato, l'ambiente è motivato. Sono queste partite dove tu perdi punti importanti e che poi alla fine ti ritrovi con 5-6 punti in più e che stai poi lì a dire ho perso il campionato per quelle partite là. Sono queste le partite che fanno perdere i campionati perché sbagli la concentrazione, sbagli la settimana, sbagli l'approccio e poi ti ritrovi da allenatore. A me è capitato pure, insomma non è che sto qui a voler dare lezioni a Boucher per carità, ma è capitato pure partite facili che tu le aspettavi convinti e tranquilli di poterli vincere e poi tu nel migliore delle ipotesi le pareggiavi. Perché sono quelle partite in cui ti ritrovi a fine primo tempo a dover cambiare 11 e non sai da quale parte incominciare. Quindi sono queste le partite, non è facile in queste partite, se tu non hai gente abituata a vincere, gente con i calli in queste campionate a sapere i rischi e i problemi che si corrono. Le difficoltà sono proprio queste, entrare in campo convinti di fare un sol boccone e poi effettivamente te ne accorgi che non è così. Rosario, fino ad oggi, fino alla prossima settimana il 2003 sarà over, dal prossimo anno sarà under, scusami, dal prossimo anno diventerà over. Sinceramente mi è da ridere quando dalla parte della Lega Nazionali Direttanti a scendere, quando si parla, ma abbiamo schierato un over in campo 2003. 2003 se non faccio sbaglio dove sono vent'anni. A vent'anni deve essere necessariamente un over. Un under, secondo me, il massimo dovrebbe avere 15-16 anni. Perché dico questo? Perché in Inghilterra mi pare che c'è una disciplina scolastica che è la scuola del calcio, dove tu a otto anni già fai campionati, non dico importanti, ma campionati giovanili. Dicasi otto addi, qui a 13 anni. La cultura del calcio italiano è stata sempre così, no? Il giovane lo vedono sempre piccolo, quindi preferiscono sempre la persona più grande. A vent'anni, io ho dibiottato negli anni 84, che avevo 18 anni, ero già giocato in Serie D da titolare, non c'erano fuori quota. Quindi è un discorso... Secondo me non è a vent'anni un ragazzo, un ragazzo o è bravo, ha vent'anni, oppure deve andarsi a divertire in una categoria dove si può veramente divertire. Io penso che l'ata giusta per un ragazzo, per giocare in questa categoria, 17 anni è già un'età che si può iniziare a formare, secondo me. Anche perché le esperienze la devono fare. Se non fai le esperienze nelle primavere, oppure fai i campionati di eccellenza, non fai i primavere. 17 anni è, secondo me, anche un'età molto avanzata. È anche 17 anni, però per il nostro livello parliamo. Io parlo del nostro livello, eccellenza calabrese, non abbiamo grosse margini di ragazzi. Quindi nel nord è più facile che ci siano questi ragazzi di 16 anni che possono... No, scusa, Pippo, completo la domanda e poi rispondo. E poi ci lamentiamo, io parlo dell'amico adesso che so per citare, perché è un amico mio, ma soprattutto un grande amico di Rosario. Poi ci lamentiamo quando vediamo in campo che risulta quasi sempre il migliore Marco Foderaro, anni 40. Ma se Marco Foderaro gioca a 40 anni non è colpa di Marco, ma è colpa della gioventù che si è andata a decollare. Giusto? Io proprio questo volevo dire. Le finalità per le quali era stata messa questa situazione di fuori quadri era quella per due motivi. Lanciare i giovani e far sì che la società, quando erano, prima erano quattro direttori fuori quadri, poi sono accese a tre, ora sono a due. Far sì che la società, dovendo far giocare per forza tre, quattro calciatori, almeno nella rosa da presentare all'arbitro all'ora delle 18, ore di 20, ci fossero almeno dieci persone. Tanto per aiutare anche la società nei budget, perché si sa tutti che sono ragazzi in budget. Oggi abbiamo. I ragazzi non sono più come quelli di una volta che sono attaccati al calcio, perché per tenere i ragazzi legati al calcio gli devi dare delle motivazioni importanti, perché hanno oggi tanti diversivi rispetto a quello che avevamo una volta noi. Una volta per noi c'era la scuola e il pallone, e era fortunato che aveva una ragazza, perché non è che tutti avevamo la ragazza, no? Secondo, oggi i ragazzi a 18 anni vanno tutti fuori a studiare, una volta c'era Messina, Catanzaro, per i ragazzi di Catanzaro oggi se ne vanno a Roma, se ne vanno a Milano, morono. Lo stesso problema che sto dicendo per i giovani, ci sono degli arbitri che si fa fatica a recuperare sempre nuove generazioni. I ragazzi non sono come prima, allora ditemi voi che senso ha continuare più con questa logica di tenere fuori quota quando andate a vedere tutte le squadre di eccellenza, quando tutte le squadre di promozione, tutte le squadre di Serie D, ditemi voi quale società di Serie D sta facendo giocare il giocatore del proprio paese o della propria zona. Allora, ci sono ragazzi, io non sono contro i ragazzi di fuori, per carità, però se io devo tenere anche nei fuori quota dieci stranieri o dieci persone che mi vengono dalla Sicilia, da Milano, allora questa storia non tiene più, perché io non solo non sto favorendo i miei ragazzi, non sto facendo giocare i miei ragazzi dei miei settori giovanili, ma soprattutto aumento le spese perché queste ragazze che vengono di fuori, oltre a dargli un rimborso, gli devo dare anche da mangiare, bere e dormire. Allora c'è senso a tenerla, tanto vale toglierla a stare in gioco, tanto se c'è una società che vuole puntare sui giovani, punto lo stesso giovane, se c'è un ragazzo giovane, giovane gioca. Scusa Pippo, però è anche vero caro Rosario che evidentemente, non voglio dire non c'è la competenza, anzi sì, lo dico, non c'è la competenza da parte di qualche tuo o vostro collega di formare i giovani, perché purtroppo oggi come oggi sono tutti innamorati dei cognomi pesanti. Beh, se tu sei innamorato del nome pesante vuol dire che gli danno la possibilità, la società ai colleghi, di poter fare quell'acquisto. Però se tu hai un giovane importante, con le motivazioni giuste ti può dare la stessa cosa che ti può dare quello che è grande. Il grande può avere l'esperienza su altri punti di vista, ma il giovane ti dà tanta energia su tante situazioni che possono capitare nel campo. Io ho visto ieri, ho visto Vigor la mezza Praia e ho visto che c'erano tre argentini nella Vigor e altri argentini. Io nulla a togliere ai ragazzi perché questi vengono da fuori con grande sacrificio a guadagnarsi qualcosina, però perché tutti questi argentini oggi sono nel campionato di eccellenza e anche nel campionato di promozione. Quindi i ragazzi nostri dove sono? Cioè, dobbiamo dargli pure noi la stessa la stessa, stesso spirito perché se io devo recuperare un giovane non lo recupero più per caso. A parte come ha detto il mister che oggi i giovani perdono la pazienza subito, se non li fai giocare quella giornata, la settimana dopo non ci vengono più per dire io non ci vengo più perché ho già i miei divertimenti, playstation, amicizia, divertimento fuori, quindi non hanno più quell'interesse che avevamo noi una volta. Quindi secondo il mio punto di vista dare un limite ai fuori quota, però se un giovane è forte gioca. Che poi voglio dire Rosario, scusami, voglio dire no, tu fai 7-8 squadre di settore giovanile. Si fanno l'Under 18, si fanno gli allevi elite, si fanno gli allevi regionali, si fanno i giovanissimi. Se tu a fine anno di tutte queste spese per cui le società spendono soldi, tutte queste squadre, non riesci a trarre uno o due ragazze dell'Under per portarle in prima squadra? Significa che anche a livello giovanile tu hai sbagliato qualcosa. Se poi hai bisogno di portare 10 giocatori da fuori o stranieri anche fuori quota per poter giocare è un fallimento totale, perché tu bene hai detto quando dicevi poco fa il fatto di tutti questi stranieri, ma ci sono anche in prima categoria, ci sono dappertutto. Stiamo restando che nessuno vuole male queste ragazze. All'arriento parleremo ancora di giovani, pubblicità. Per il giorno delle vostre nozze, sala Madame Lillà, perché piccoli gesti, i caldi sorrisi, e gli sguardi carichi di effetto rimangono impressi nel cuore. Sala Madame Lillà a Palmi in contrada taureana. Telefono 0966 47 93 80. Bene, siamo nuovamente rientrati in studio perché abbiamo ancora tanto da parlare. Vi faremo vedere anche i gol che hanno permesso al Bocale e al Zambiasi di superare la gara della semifinale e andare a scontrarsi il prossimo venerdì, ripeto, ore 14.30 a Logri. Io faccio questa brevissima premessa perché martedì l'altra, martedì scorso, è stata una puntata un po' particolare, grazie anche alla presenza di Giovanni Condemi, il quale ha puntato il dito sul settore arbitrale, però dal punto di vista, diciamo, della correttezza ha detto mi assumo la responsabilità di quello che dico. Ovviamente le poltrone sono sempre libere, chi vuole replicare lo può fare tranquillamente, il mio compito è quello di gestire, quindi io non posso entrare nella dichiarazione o nel parere di un osso. Mi spiace che a San Biasi qualcuno non l'ha presa bene con il sottoscritto, però io faccio il conduttore, la parola a Pippo Laface o a Rosario Saleno, sarà Pippo e Rosario ad assumersi le responsabilità di quello che dicono. A prova di Cittanova è arrivata la comunicazione di poco fa, da due punti di penalità si è scesa uno, quindi i punti di vantaggio della capolista San Biasi sul Cittanova, quindi non sono più dieci ma nove. Andiamo a Logri, vediamo questo servizio di Logri a Cireale firmato dal collega Raffaele Musumeci dal 2-0 per la Cireale al 2-2 finale, vediamo. Una Cireale bello, sciupone ma pavido, butta via un'ora di dominio assoluto e torna da Logri con un punto che è comunque meglio di zero ma che per come è arrivato non può non lasciare la mano in bocca, perché la Cireale che scende in campo a Logri è rabbioso e bello a vedersi, gioca persino un buon calcio e si ritrova subito in vantaggio grazie alle inzuccate di un cicirello formato top che brucia le mani al portiere di casa Lanziani. Il Logri prova a reagire ma è timido e le conclusioni verso la porta di Zizzani non creano brividi più di tanto, invece quando la squadra di Marra attacca si infila come il burro nella difesa calabrese, Demutis prima e Palma poi hanno sul piede la palla del raddoppio ma Lanziani si fa perdonare l'errore sulla rete granata. Sull'altro fronte il più determinato di tutti è Pappalardo che ci prova dalla distanza, Zizzani è attento, il primo tempo si chiude con la Cireale meritatamente in vantaggio. Vantaggio che si allunga nella ripresa quando dopo l'ennesima occasione sciupata, questa volta da Lococo fermato ancora da Lanziani, la palla giusta capita sui piedi di Cicirello che firma la sua doppietta personale. 2-0 è partita che sembra in ghiaccio anche perché il Logri non pare avere la birra per reagire. E' a questo punto invece che lo spauracchio leveque si prende sulle spalle alla squadra calabrese. Il neoacquisto del Logri, sempre in grado di fare del male alla Cireale in passato con la maglia del San Luca, decide che non può finire così, aumenta i giri del motore e manda in portacosta che batte Zizzania. Sul 2-1 emergono tutti i difetti caratteriali della Cireale che come successo con Casalnuove e Canicatti si fa prendere dal panico. Anche Marra che toglie attaccanti e centrocampisti per mettere mediani e difensori. La Cireale si schiaccia nella propria area di rigore e dopo due miracole di Zizzania incassa l'inevitabile pareggio. Affirma ovviamente proprio di leveque che trova al novantesimo il tiro a giro giusto. Finisce con un pareggio che sa di amaro e da cui bisognerà trarre insegnamento per le partite successive. Marra a fine gara dichiarerà che chi ha paura non può giocare ad Acireale ma anche il tecnico con i suoi cambi ha finito con l'avallarla quella paura. Resta di buono che la classifica si muove con la zona play-out che resta a meno 6 e la possibilità immediata di riscatto nell'ultimo turno infrasettimanale dell'anno. Mercoledì allo stadio c'è Galatea contro la San Cataldese. Bene il prossimo turno si giocherà questo mercoledì ultima gara del giro di andata e poi la rimodulazione nel giro di ritorno per questo campionato sempre più falso perché purtroppo il ritiro dell'FC La Mezza ha scombussolato i piani da parte di tutti. Acireale San Cataldese, Santana da Trapani, Gioiese Castrovilleri e qui la Gioiese potrebbe in caso di vittoria potrebbe alimentare un piccolo potrebbe mettere un piccolo una piccola percentuale di lumicino di speranza. LFR giocherà BG Virtus, Licata Vibonese, Portici Agragas, San Luca Canigatti e Siracusa Real e Casal Nuovo. Velocemente che devo parlare del campionato di appartenenza di Rosario e con te vorrei parlare anche di altro Pippo è un momento davvero molto molto drammatico per le scuole calabrese tranne la Vibonese e lFR Reggio Calabria. Un motivo ci sarà. Sì questo sta perché insomma colpisce sia la proletta. Mentre parla la fase possiamo mandare il video di Real Casal Nuovo San Luca vai? Perché voglio dire intanto perché sta a significare che a volte dietro questi progetti il problema fondamentale è il problema economico. Sì vanno male Gioiese San Luca magari che sono nel provincio del Reggio dove noi sappiamo che abbiamo una situazione socio economica non bella però anche Castrovilleri che è una piazza importante sta stentando sta rischiando tantissimo quindi questo significa che è una situazione di quelle che tu non hai una tranquillità economica o imprenditori che investono sempre meno in questo sport. Quindi è chiaro che se dovessero retrocedere tutte e tre io mi auguro di no. Io non vedo soluzione nella Gioiese non ne vede in questo momento. Insomma sarei prima di essere felicissimo se da stasera ci fosse una società che potrebbe risolvere i problemi ma stento e penso che è molto difficile soprattutto perché giocare un anno fuori casa senza campo per i veri campi della Piana per poter giocare questo problema grosso. A prova di campo scusami. Lo stesso San Luca che sta avendo un sacco problema. A prova assurda è la cosa che io non mi spiego la cosa che non mi spiego sai a San Luca si è giocato per non ricordo quando è stata quella famosa partita con i magistrati con i politici non ricordo quando è stato fatto otto anni fa si è giocato per otto anni un campo organizzato dal ministero fatto per via di quelle situazioni che c'erano e per otto anni è andato bene ora non va bene adesso e posso capire come fa un garante della legalità a far giocare in un campo che non era idoneo perché gli scarichi erano fatti nel pallone accanto. Oggi ci siamo accorti è chiaro che questi di San Luca stanno facendo anche loro un grande miracolo un grande grande sacrificio perché insomma abbiamo fatto facci vedere il campo metterci dacci sei mesi di tempo per organizzarci ma intanto qual è stato il proprio vedimento ritirare l'ander e con la prima squadra adesso mercoledì rischiano di andare a giocare a San Piasi. Perché è un momento davvero felice quello che sta attraversando la città capoluogo Catanzaro nel campionato di Serie B ma credo anche che il buon ottimo lavoro di Carmelo Moro continua anno dopo anno a dare i propri successi. Beh diciamo che Catanzaro è una piazza molto importante poi c'è un'azienda molto seria che è la famiglia Noto che ti dà garanzia su tutti i punti di vista organizzazione programmazione c'è stata la pazienza quando non si è vinto anzi io pensavo che tu lo sai quando non si vince si perde un po' il morale invece eh la famiglia Noto ha ha creduto ciecamente su questo punto di vista e quindi ha dato entusiasmo e io penso che quest'anno con il grande lavoro che sta facendo il mister Vivarini giocando anche bene eh io penso che si lotterà per in alto fino a quando fino alla stagione si arriverà un traguardo importante. Grande lavoro di Carmelo Moro che ha creato eh in passato un settore giovanile dove noi oggi sì non siamo eh ai vertici perché eh tu sai eh in campionato nazionale dove c'è Fiorentina Roma Lazio Empoli sono settori giovanili molto grossi di di prima fascia e ce la stiamo giocando quindi vuol dire che abbiamo ha fatto ha fatto un buon lavoro visto la possibilità che ha avuto eh non ha avuto grande margine di potersi muovere in un certo modo però quelle che ha potuto fare l'ha fatto secondo me l'ha fatto qualche giovane da proporre a Vivarini? Beh io in questo momento da noi ci sono due ragazzi non faccio nome perché non non mi va di fare nomi c'è qualche ragazzo interessante c'è però come abbiamo detto prima bisogna vedere se hanno poi la testa l'anno dopo se hanno fatto dieci partite ma non voglio giocare l'anno prossimo voglio andare a giocare in altra parte e questa è la la difficoltà eh del giovane io lo sto vivendo con i ragazzi quest'anno ho trovato un gruppo intelligente preparato su alcuni punti di vista però devo stare sempre a fargli capire che la partita oggi può giocare domani può andare in tribuna domani può andare in banchina devono abituarsi a queste a queste realtà che non possono giocare tutti gli anni tutti l'anno che puoi giocare in tutto l'anno non hanno la pazienza quindi eh ripeto il direttore ha fatto un grande lavoro su sui giovani che abbiamo che abbiamo se vogliamo essere a livello di eh Roma Fiorentina Empoli Lazio eh e altre società eh secondo me bisogna alzare un po' l'asticella e investire un po' di più. A livello di impianti di sportivi lì a Catanzaro come siete messi? Guarda ti dirò noi siamo messi bene a livello perché noi utilizziamo il federale utilizziamo Simini Mare che ha una struttura di nervo sintetica dietro allo stadio c'è il campo B cioè eh non abbiamo difficoltà dei campi però poi alla lunga e se la società Catanzaro so che sta avendo un progetto importante per poter creare una cittadella a Giovino questo sarà un grande grande vantaggio per la società. Pippo eh lo scorso anno intanto facciamo i complimenti adesso vediamoci anche i gol che hanno permesso al Bocale di approdare in finale di Coppa di Lettanti eh facciamo i complimenti al Bocale in questo caso al tecnico eh Giovanni Saviano io l'ho vista a Città Nova per me il Bocale è una buona squadra che può arrivare tranquillamente fino in fondo per le prime dalla seconda alla quarta eh posizione poi c'è questa grande fortuna tra virgolette perché si è riusciti ad a reclutare i imprenditori importanti della città di Reggio Calabria quando c'è una città forte significa tutto. Sì volevo intanto chiudere il discorso suo se mi permettete due cose l'intelligenza e la serietà della famiglia Noto tre anni fa hanno perso il campionato sembrava che mollassero invece ci sono riorganizzato un programma biennale sono in serie B e sono posto secondo me aspirare ad andare in serie perché le quali ci sono tutti e poi la capacità di prendere un ragazzo come Carmelo Moro noi a Reggio li portavamo da da Pordenone non so da dove li portiamo no perché quelli locali non sono buoni Carmelo Moro ha preso un settore giovanile a Catanzaro dal nulla e ha creato una fusione. Nessuno è profeta nel proprio paese. Ma ecco perché abbiamo questa situazione oggi siamo in serie D. Vai avanti il Bocale. Poi il Bocale il Bocale io te lo dicevo prima grazie alla grande intelligenza di Pippo Cogliando il Bocale ha fatto queste grandi operazioni è diventata una delle società più appetibili a livello di promozione è diventata una delle società più appetibili a livello di eccellenza è una società importante è una società che secondo me sul piano organizzativo e sul piano economico a mio avviso è pronta per ambire ad altri campionati quando tutti la davano per finita a Pippo Pippo Cogliangelo il presidente mi permetto di chiamarlo Pippo per l'amicizia che ci lega cioè è uno dei rari casi e te lo davano per finito calcisticamente calcisticamente no come uomo non mi permette assolutamente ma calcisticamente tutti pensavano che il primo dopo scoppiasse invece oggi si trova in mano una società con degli imprenditori importanti della giocolabria è stato molto bravo e io ritengo che nella programmazione e nella organizzazione societaria è molto avanti e ha delle idee importanti non dimentichiamo che è anche una società molto ma molto ma molto impegnata sul sociale io so cosa fanno e questo è una cosa molto importante vediamoci scusa Pippo vediamoci i gol di Cittanova Bocale uno a uno addirittura il gol del Bocale è stato contestato però ve lo facciamo vedere tre volte perché secondo me non me ne vogliono gli amici di Cittanova il portiere era al di là della linea bianca quindi gol abbastanza regolare guardatelo e commentatelo voi vai Pippo e sì lì lì questa è la partita di Coppa Italia di mercoledì scorso è chiaro che guarda lo vediamo core e play io non so se era dentro se fuori perché da questa posizione lo so se riguarda la data tocca la rete quello che a me avviso è sì dalle immagini sembra che sia dentro però quello che mi suona subito stona è vedere la posizione sbagliata di Palumbo che è pure un buon portiere ben dotato e che quindi in quella posizione secondo me aveva preso una posizione un pochettino sbagliata andando troppo avanti e soprattutto leggendo il ritardo quella palla mentre con Rosario commentiamo questi altri gol tra l'altro una finale già ipotecata nella gara di andata il 2 a 0 di Trebisacce 2 a 0 anche alla renda la serietista per arrivare anche dopo tanti anni a San Piasi o perlomeno era arrivata due anni fa poi sappiamo quello che è successo è successo il padatrac quindi andiamo su questa partita io ho visto ho visto come è organizzata il San Piasi al di fuori che è una squadra abbastanza quadrata completa su tutte le parti però c'è un'organizzazione dietro molto molto importante e su questo Claudio sta facendo un grande lavoro perché è un allenatore pratico non gli piacciono le belle partite in un certo modo che bisogna fare quando c'è da vincere una partita la vincono senza andare a guardare se abbiamo giocato bene alla fine conta poi conta il risultato quindi è una società organizzata una società organizzata perché se tu vedi lo spogliatoio del San Piasi non è uno spogliatoio normale vai lì dentro e vedi sembra uno spogliatoio di Serie A quindi già questo ti dà ti dà un impronte importante a chi va a giocare lì dentro la vigora mezza che sta ricostruendo un po' la squadra perché magari per Danilo alcune cose non andavano bene per Giuseppe magari andavano diversamente e quindi stanno costruendo questo per recuperare qualcosa là davanti è un po' difficile perché i 10 punti sono tanti c'è anche ma adesso c'è anche il Bocale che si è fatto avanti e Soriano avendo fuori anche Fioretti che è quasi il cannoniere perché ferma da un mese ancora è un gol di sopra Matteucci però ecco e Soriano è una squadra che può dare fastidio alla Vigor può dare fastidio anche al Bocale può dare fastidio alla Cittanovese quindi è un campionato dei primi tre è un campionato abbastanza allivellato non è la solida eccellenza questa è un'eccellenza secondo me molto più forte nel senso che bastano due sconfitte per essere risucchiato e doveva apparare nel filmato che arriva adesso di Palmi Palmese fino a qualche settimana fa era nei quartieri meno alti della classifica adesso ritrovi la Palmese nei play out dove rischia parecchia addirittura una partita persa ieri con questa domanda con il Gioiosa una brutta partita una squadra contratta una squadra mi dispiace molto dirlo per il mio amico Crucitti senza un'idea di gioco il Gioiosa ha ottenuto i tre punti che gli permettono di sperare per rimanere in questa categoria proprio il Gioiosa ha ufficializzato nella giornata di ieri il tecnico Francesco Ferraro Palmi lo conosce abbastanza bene indossare la maglietta della Palmese con tutti i rispetto non è come indossare la maglietta di un'altra squadra quella è una maglietta che pesa la città di Palmi ha fatto calcio è stata sempre una piazza ambita da tutti no una città molto difficile su questo punto di vista mi dispiace che la vedo lì sotto io quando vedo la Palmese è il mio secondo amore su certi punti di vista perché abbiamo passato un anno bellissimo mi pare che hai vinto tutto quello che c'era da vincere hai totalizzato non so quanti punti abbiamo fatto il regolo dei punti però quando la vedo là e secondo me Palmese è come Gioia Tauro sono due piazze che non possono stare sotto a vedere gli altri città che magari sono meno ambiti quindi dal valore che hanno io mi auguro che la Palmese possa uscire al più presto possibile e poi di poter stare in queste categorie perché vederla fuori dall'eccellenza inizia a dare un po' fastidio una piccola piazza dove il tecnico la face anche prestato la sua opera professionale una piccola piazza che sta facendo cose molto buone e che addirittura sabato si è concesso il lusso di vincere l'anticipo televisivo in quel di Soriano vediamo il filmato Soriano Brancaleone cosa diciamo di questo Brancaleone? ma guarda Brancaleone è la tipica squadra dove è forte il senso di appartenenza dove spendono la metà un quarto di quello che spendono le altre squadre ti promettono quello che ti possono dare oltre non vanno poco fa diceva parlavate di Marco Foderaro ma lì c'è Galletta no lì ci sono quattro quarantene lì c'è Daniele Galletta, c'è Simone Galletta, c'è Salvatore Manganaro e c'è Gianni Galletta e altri due tre sono a 33-34 c'è fin quando ci sarà la famiglia Galletta il Brancaleone non morirà mai questa gente che la maglia ce l'ha cucita addosso loro abbandonano le famiglie e ragionano una settimana su una settimana per far sì che questa squadra possa mai finire loro tengono il campo, sono loro a curarlo tengono come se fosse il giardino di casa propria organizzano lì, raccolgono anche le briciole pur di mantenere questa squadra e sabato devo dare atto che hanno fatto una grandissima partita vincendo veritatamente, l'ho vista con giocatori che magari si pensano che siano finiti però che lì in quel contesto hanno fatto un qualcosa di importante c'è stato un momento in cui si erano un po' smarriti per via di quelle tre sconfitte magari era un po' costino scoraggiato pure Criaco però adesso hanno preso per due partite hanno avuto Avudino che adesso è andato all'ardore sono prima in promozione hanno ripreso Tripodi hanno ripreso Cimino il ragazzo che è uno dei migliori del 2004 che c'è in eccellenza hanno ripreso vari calciatori e quindi chiaramente loro sentono molto l'assenza di Gianni Galletta quando manca il Dichio Matteo Carbone perché sono le due punte che hanno in organico però è una società che fin quando ci sarà la stagente il Brancolino si starà e si starà anche in eccellenza Andiamo alla mezza Pasquale Vigor Praia la cominciamo assieme a Rosario visto che ha visto questa partita alla Vigor lì ci sono aspettative molto importanti soprattutto dopo la rinuncia dell'FC La Mezzia beh certo l'uscita dell'FC La Mezzia dà più valore alla Vigor La Mezzia come squadra anche perché è sempre stata la prima squadra della città stanno iniziando a fare delle buone cose stanno iniziando a prendere degli acquisti però io penso che ancora sono un po' lontani da alcune cose devono ancora migliorare su altri aspetti penso che loro devono programmare hanno già una mezza idea la società che c'è dietro sono persone tutte persone per bene non sono persone che si mettono oggi e poi domani se ne vanno quindi io penso che devono fare come la famiglia Noto devono cercare di essere realisti se vinciamo va bene se non vinciamo dobbiamo costruire la squadra l'anno prossimo anche perché caro Rosario tu sei la Medino adesso i fatti, i numeri dicono che il San Biase ha buonissime possibilità di accedere alla quarta serie nazionale cioè alla serie D e quindi la mezza non può rimanere dietro anche questo discorso di campanilismo però Nino sì il campanilismo alcune volte non fa bene perché poi ti fa andare oltre le capacità che tu non hai le capacità economiche che tu non hai San Biase è partito già bene poi la Vigor ha costruito facendo un campionato importante non è... sono partite per vincere il campionato questo è almeno per quelle che so poi non so se dietro le quinte loro parlavano di vincere il campionato è una squadra abbastanza come esperienza c'è Marco Foderaro, c'è Giovanna Foderaro c'è Denisi, c'è Mascaro hanno la vrende che non l'hanno mai avuto su alcune partite la squadra è già una squadra quadrata hanno Catania hanno Angelo Catani cioè hanno una squadra quadrata quindi arrivando secondi arrivando secondi perché secondo me 10 punti è un po' difficile prendermi bene andiamo adesso a Reggio Canapia a Longhi Povetto dove il Reggio Ravagnese ha vinto la gara interna con il Rende per 1 a 0 tre punti che consentono alla formazione di Peppe Misidi di assestarsi a quota 21 in classifica e quindi con tre punti di distacco rispetto all'ultima posizione che riguarda i playoff siamo davvero in addirittura d'arrivo oltre a farci gli auguri del Natale di solito una finale importante le finali dicono si dice in gergo calcistico a Garo Pippo e a Caro Rosario le finali non si giocano le finali si vincono io non voglio dire chi ha più possibilità di vincere perché si è arrivato in finale il San Biasi lo ha meritato si è arrivato in finale il Bocale lo ha meritato soprattutto vincendo una partita che forse sulla carta non era favorito in quel di Cittanova io mi auguro nonostante l'orario nonostante il periodo prefessivo 23 mi auguro il 23 dicembre mi auguro che Laure ci sia davvero tantissima gente Rosario le finali si devono vincere sono due belle squadre San Biasi è un livello più alto il Bocale però è una squadra scorbutica allenata bene da Saviano sto seguendo con attenzione poi il Bocale anche perché sono amici Nino e Filippo sono grandi amici quindi sarà una bella partita sicuramente non sarà una partita pulita ma sarà una partita sporca a livello di di attenzione di situazione però io penso che il San Biasi ha quel cosino in più per poter vincere la finale però le finali sono partite strane fossi a posto di Saviano come prepareresti questa partita? è il fatto che non sono affatto a posto di Saviano tre anni fa ci siamo arrivati vicino in semifinale ci ha mandati via ci ha cacciato di San Luca e poi ha vinto la Coppa alla mezza era stata una bellissima occasione ci hanno mandato via ci hanno fatti praticamente ci hanno battuti e quindi è una partita secondo me è una partita secca tutti i pronostici si possono annullare certamente il San Biasi c'ha qualcosina in più non ti nascondo che se questo bocale avessi iniziato con questa rosa il campionato probabilmente i punti di differenza non erano 10 e 12 ma sarebbero di meno però se me la dovessi giocare tu so che sei un amante dei numeri e vuoi una percentuale dico 51 San Biasi il timer mi dice che abbiamo concluso vi do un minuto per entrambi parliamo dei vostri colleghi l'Ajac associazione italiana allenatori calcio c'è qualcosa da rivedere soprattutto nella formazione degli allenatori soprattutto da parte di questi giovani che allenano loro malgrado pagando no guarda sul piano della formazione degli ultimi anni è stato fatto parecchio si fanno dei corsi di aggiornamento nelle varie sedi locali di zona e si fanno anche per poter allenare tu devi fare ogni tre anni dei corsi che io di solito faccio online perché non ho il tempo di andare a fare diversamente e quindi sono dei corsi di aggiornamento il corso di aggiornamento lascia il tempo che trova se tu non hai le capacità e le abilità come porsi e come fare perché oggi tutti siamo in grado di aprire un computer di leggerci quattro nozioni e poi di andare a fare il martedì e mercoledì io l'allenatore una cosa è la teoria una cosa è la pratica l'allenatore lo vedo di come gestisce lo spogliatoio di come mette la squadra in campo e di come è in grado di variarla durante la partita se non sa fare questo lui può scrivere dieci libri e fare ventimila enciclopedie per me non è un caso tu mi parlavi di giovani non è un caso che se andiamo a vedere gli allenatori che le hanno in serie D Panarello Mancini e compagnia se tu vai a vedere gli allenatori che le hanno in eccellenza Morelli Graziano Lucera l'allenatore del Praia lì come Aita un grande allenatore voglio dire Ciccio Parati fino a un paio di settimane fa Figliomeni sono sempre gli stessi perché evidentemente i giovani che escono hanno fretta di entrare una volta Rosario mi è testimone prima di allenare in eccellenza dovevo partire dagli allievi dagli giovanissimi e poi hanno la presunzione di essere di arrivare subito a tutto o eventualmente proporre a qualche società qualche sponsorino Rosario Io penso che i colleghi giovani devono fare la loro strada partire dalle categorie per arrivare alla categoria importante vedo alcuni giovani che si trovano già là in posizione che magari altri allenatori non ci possono arrivare perché ci sono altri motivi c'è una buona generazione però queste generazioni devono fare la loro esperienza perché il calcio come ha detto il mister non è solo il computer è la pratica è come gestire il gruppo è come tenere come mantenere calmi i dirigenti come gestire quel presidente che è un pochino il duente e io penso che l'allenatore si vede in quelle circostanze quindi grazie mille a Rosario Salerno un sereno Natale un felicissimo 2024 che sia per te ricco di successi un grazie caloroso a Pippo La Pace sono certo e sicuro che il 2024 su 5 società che ti hanno richiesto fino a qualche ora fa a meno una l'accetti perché veramente il calcio calabrese ha bisogno della competenza la passione c'è Nino però il mister deve dare consigli è il momento in cui voglio vivere la famiglia mi sono rivisto dopo 30 anni ho rivisto i miei figli grandi grazie grazie anche a te auguri a tutti un sereno Natale un sereno Natale alla famiglia di Ten canale 12 che ci permette settimanalmente di narrare a noi a voi tutti il calcio calabrese un grazie di cuore a Inmedia Live che produce appunto pianeta di lettanti un grazie veramente a tutto il popolo calabrese che settimana dopo settimana è sempre più numeroso buon Natale a tutti buon 2024 noi la prima settimana del 2024 in una di quelle due sedie avremo il tecnico che avrà vinto la Coppa Italia di lettanti 2023 buon Natale e buonanotte a tutti questo programma è realizzato in collaborazione con sostenibilità è la parola chiave del futuro e Redel Green Energy si occupa da più di 40 anni di efficientamento energetico ed energie rinnovabili il futuro è green scegli Redel grazie a tutti